Chiuso il sipario sugli otto giorni dell'edizione 2024 della mostra del nuovo cinema di Pesaro, il cui già prestigioso sessantesimo anniversario è stato reso ancora più luccicante dai riflettori dell'anno di Pesaro capitale della cultura. Una grandissima offerta di proposte e grandissimi ospiti accompagnati da una costante presenza di pubblico rimbalzato dai grandi nomi alle nicchie del concorso che ha visto la giuria internazionale, composta da personalità di rilievo come Luis Mignaro, Julio Bressane e Miriam Mesier, decretare vincitore del premio principale il film Slow Shift della regista indiana Shambhavi Kaul. Il festival studia da sempre per esempio anche la commedia, quindi Ficarre e Piccone, abbiamo dedicato un libro a loro, studia il cinema del passato e lo mostra in 35 mm, avete visto in spiaggia i film con Marcello Mastroianni e si proietta o almeno cerca di proiettarsi nel cinema del futuro attraverso anche una nuova sezione che è quella dedicata alla virtual reality Pesaro Nuovo Cinema VR ma anche al concorso Pesaro Nuovo Cinema che è la nostra punta di diamante perché sono film inediti, sono prime mondiali e sono accomunate appunto dalla ricerca del linguaggio cinematografico nuovo e quindi secondo me il passato del cinema che abbiamo detto Mastroianni, il presente, Ficarre e Piccone è connesso anche al futuro dei nuovi cineasti. È stata un'edizione all'altezza delle aspettative non solo della Capitale 24 ma anche di una sessantesima edizione, siamo molto contenti del risultato, del risultato di pubblico come sempre anche della partecipazione dei giovani studenti ma anche degli appassionati di cinema e anche di tutte le occasioni che la mostra in questa edizione speciale è riuscita a creare di connessione con la città e con le strategie della città, intanto ampliando come sempre il rapporto con i luoghi dal cinema in spiaggia al muro del suono a Palazzo Gradari che è diventata una vera e propria rassegna musicale interattiva di musica e di interazione di artisti con il cinema, il cinema circus per i bambini, insomma tanti filoni all'interno di una mostra che è sempre più a contatto con il pubblico ma anche con i turisti, con quelli che visitano la città. In particolar modo quest'anno anche la scelta di sposare due progetti, Care e la città come il legame con il Festival di Sarajevo e in particolar modo anche la Corea Week, questa esplosione di scambi culturali di questi giorni con le città unesco della Corea a partire la Busan, città unesco del cinema della Corea e Degu per il cinema e quindi una mostra che diventa anche una piattaforma di scambi e di incontri tra persone, tra artisti, tra musicisti, tra cineasti, insomma veramente unica probabilmente nello scenario nazionale. A chiudere la rassegna è stata la proiezione dell'acclamato Challengers del regista Luca Guadagnino, insignito del premio Pesero Nuovo Cinema 60 e ultimo super ospite di otto giorni che hanno visto alternarsi in Piazza del Popolo anche Sergio Castellitto, Ficarre Picone, Valentina Lodovini, Jasmine Trinca, Enzo Dalò e Francesco Pannufino. Devo dire che forse è una delle edizioni più faticose perché è coincisa anche con l'anno di Capitale della Cultura che ha fatto sì che ci siano state tante cose di cui tenere conto tante iniziative in contemporanea, farsi largo fra varie cose, però è anche inevitabilmente una delle manifestazioni di maggior soddisfazione perché veramente siamo stati accolti da un pubblico festante tutti i giorni e questa sera non è diverso dagli altri, un super ospite come abbiamo avuto tanti super ospiti in tutte queste sere, una piazza pienissima, sentiamo veramente forte il calore e la vicinanza del nostro pubblico che ricordiamo un pubblico che viene un po' da tutta Italia, anche dall'estero, quest'anno ci sono state presenze dal Brasile, dagli Stati Uniti, dalla Palestina, dalla Corea del Sud, solo per dire alcuni paesi, quindi veramente un'occasione anche per parlare di Pesaro un po' in tutto il mondo.